Diceva Erasmo da Rotterdam, intellettuale e umanista, che nella prima metà del Cinquecento seppe ispirarsi ai principi di pace e tolleranza, che le guerre continue si svolgono per capriccio dei principi, con enormi rovine per i popoli, in quanto la pace più ingiusta è meno dannosa della più giusta guerra. Oggi probabilmente il suo pensiero verrebbe liquidato come pacifismo pret-à-porter, e certo l'impressione è che nessuno abbia voglia di provare a fermare il linguaggio delle armi. Anzi, dal conflitto in Ucraina a quello di Gaza, non solo i contendenti ogni giorno fanno a parole e nei fatti un passo avanti verso una guerra su scala non più regionale, ma anche la comunità internazionale pare inerme di fronte alla necessità che si tenti di poter dare una vera opportunità alla diplomazia e al dialogo. Mentre ai confini dell'Europa si continua a morire ogni giorno, ogni minuto, i leader europei da settimane invitano a potenziare l'industria bellica e ad aumentare il sistema di difesa del continente per poi preparare i cittadini alla guerra. In questo contesto i più cauti sembrano gli Stati Uniti, ma intanto la Nato sta spostando i propri militari sempre più a est, mentre Putin e i servizi segreti russi accusano l'Occidente di aver avuto un ruolo nell'addestramento del comando di terroristi che venerdì 22 marzo ha assaltato il Crocus Music Hall, facendo almeno 140 morti in un attentato rivendicato dall'Isis, ma che a Mosca ritengono in qualche modo legato all'Ucraina. In questa polveriera basta davvero una scintilla a provocare un'escalation verso il punto di non ritorno in spregio allo spirito stesso della Pasqua, celebrazione della risurrezione di Gesù e massima rappresentazione di quei messaggi di pace e di perdono insiti nel Vangelo.